salve amiche creative volevo presentarvi queste targhette che io realizzo quando del tempo e le metto da parte per poterle utilizzare in occasioni come questa per esempio che devo ricamare dei cestini con un tessuto particolare in juta che rimane molto antipatico da ricamare direttamente con la ricamatrice e quindi questa è un'ottima idea per poter poi vedere un prodotto finito molto rifinito e carino ho deciso il punto dove poter fissare la fermo con degli spilli e poi con un punto dritto la vado a cucire adesso vi faccio vedere andiamo piano piano tutta intorno dicendo sulla parte diciamo bianca che che io lascio vediamo se facendo uno zoom vedete vedete io lascio un bordino bianco dove poter poi passarci con l'ago ecco nelle nelle parti tonde bisogna andare pianino per poter poi seguire diciamo il tessuto eccoci qua abbiamo quasi terminato eccoci qui fissiamo il punto e adesso vi faccio vedere togliamo anche le spille che non ci occorrono più ecco qui la targhetta come potete vedere è inserita rimane un lavoro diciamo molto carino pulito addirittura sembra come se fosse imbottito e viene veramente bene allora per chi per chi fosse interessato può contattarmi perché le posso preparare anche su richiesta lascerò sotto il mio indirizzo e che dirvi a presto con i cestini finiti grazie a tutte